La situazione è sotto controllo in quanto le zone interessate dalle precipitazioni nevose sono state quelle in questo weekend di zone di alta collina e di montagna. Parliamo di precipitazioni che si aggirano intorno ai 15 cm nelle zone di alta collina a quelle che arrivano anche sopra il mezzo metro nelle zone del Catria, del Nerone e del Monte Carpegna. Quindi i comuni interessati sono quelli di Apecchio, Monte Coppiolo, Cagli, Frontone e Pergola. La situazione della viabilità è sotto controllo in quanto le ditte interessate dal trattamento antighiaccio e antineve sono state subito allertate e quindi hanno permesso di agire tempestivamente sulle strade provinciali. La novità di questo piano trattamento neve condiviso anche con la prefettura di Pesaro è quello che abbiamo inserito dei sistemi GPS sui mezzi che permettono sia l'individuazione in tempo reale dei trattamenti che vengono effettuati e dalla possibilità anche alla cittadinanza di vedere se le strade sono libere e percorribili in tranquillità. Ricordiamo che è obbligatorio su tutti i mezzi l'utilizzo di dispositivi da neve quindi gomme termiche invernali e catene a bordo specialmente nelle zone dove le precipitazioni nevose possono essere frequenti e costanti. Quello che dicevo è che questo sistema GPS che interessa 128 dispositivi tra lame da neve e sistemi di antighiaccio è visibile da un sistema. Le ditte interessate sono tutte ditte locali che hanno il loro deposito dei mezzi e del sale nell'arco di un massimo di 10 km dalle zone di intervento e questo permette di garantire un intervento tempestivo e anche sicuro.